Musica Bentrovati amici telespettatori di Canale 8, oggi in apertura di DG parliamo di politica al via l'era di Michele Emiliano, oggi la proclamazione ufficiale del sindaco di Puglia come nuovo governatore della regione. Intanto nella serata di ieri il presidente uscente Nichi Vendola dopo 5 anni di governo ha salutato i pugliesi con un video diffuso in rete. Vediamo il primo servizio. E' arrivato per Michele Emiliano il giorno dell'insediamento a capo dell'Aggiunta regionale pugliese. La cerimonia di proclamazione si tiene presso la Corte d'Appello di Bari dove assiede l'ufficio elettorale. Un traguardo tanto agoniato da Emiliano che già dalle elezioni del 2009 pensò di sfidare alle primarie l'uscente Nichi Vendola, proposito che dovette però abbandonare per continuare a ricoprire la carica di sindaco di Bari per i successivi 5 anni. Oggi il sindaco di Puglia entra a Palazzo della Presidenza da governatore ma senza la sua giunta ancora da nominare. I ritardi nel trasferimento dei risultati del voto all'ufficio elettorale del capoluogo pugliese hanno infatti portato allo slittamento della proclamazione dei consiglieri regionali. Ora Michele Emiliano ha soltanto 10 giorni di tempo per nominare il suo team come prevede lo statuto del Consiglio regionale. Lo stesso prevede inoltre che il consigliere regionale più anziano convochi la prima seduta della giunta non oltre 25 giorni dalla proclamazione. Il sindaco di Puglia deve dunque fare in fretta e comporre il suo equip. I pretendenti sono tanti, primo tra tutti il salentino Sergio Blasi, il più votato dei candidati, che rivendica il rispetto del risultato elettorale. Insieme a lui c'è anche Marco Lacarra, più votato in provincia di Bari, che rivendica l'assessorato alle infrastrutture, che Emiliano vorrebbe assegnare a Gianni Giannini, anche lui eletto nel capoluogo. Il nuovo governatore vuole inoltre dare spazio alle donne, istituendo due assessorati esterni, dal momento che nessun rappresentante del gentil sesso è stato eletto in Puglia. Emiliano potrà comunque accontentare soltanto 5 o 6 degli eletti, lasciandone fuori almeno 10. Intanto, ieri, l'uscente governatore della Puglia, Nichi Vendola, si è congidato dal suo incarico con un videomessaggio sul web. Dieci anni fa la Puglia che avevo sotto i miei occhi aveva grandi fragilità. Abbiamo provato in tutti i settori a moralizzare, bonificare e cambiare la storia della Puglia, perché potesse essere del sud la locomotiva di testa, perché potesse andare a Roma o a Bruxelles senza il cappello in mano, perché potessimo essere orgogliosi di una tradizione di intraprendenza, di curiosità, di vivacità intellettuale, che fa della Puglia un luogo speciale. Dalli sviluppi dell'inchiesta sulla regolarità dell'iter, seguito da Palazzo Carafa per installare a Lecce e province distributori di acqua potabile, spunte il nome di un primo indagato, a far scattare le indagini un esposto presentato a luglio dell'anno scorso da Antonio Fanghella, un sessantenne leccese. Vediamo il servizio di Ivan Bonetti. L'ingegnere leccese William Vernich è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Lecce, che cerca di far luce sulla regolarità dell'iter seguito a Palazzo Carafa per installare in città i distributori di acqua potabile. Secondo la tesi accusatoria, l'ipotesi di reato sarebbe quella di truffa con il professionista leccese che avrebbe avuto un ruolo da mediatore tra imprenditori e politica per ottenere l'autorizzazione a montare le strutture in questione. Si tratta di 10-15 impianti tra Lecce e provincia. Nello specifico si sta cercando di stabilire se, come denunciato da Antonio Fanghella, quest'ultimo sarebbe stato raggirato da Vernich, che gli avrebbe fatto credere di fungere da promotore del progetto proposto dalla romana Water & Water, chiudendo poi l'accordo con la Eniacque e fare retromarcia dopo aver scoperto il coinvolgimento dell'ex boss del Brenta, Felice Maniero, accreditatosi sotto le false spoglie di Luca Mori. Sotto la lente di ingrandimento della Procura, anche la politica leccese e le decisioni che hanno portato all'esclusione di Fanghella, sebbene, va detto, che al momento nessuno degli amministratori cittadini risulta coinvolto nell'inchiesta, che peraltro si occupa solo di truffa e non ipotizza altri reati, come l'abuso d'ufficio. L'inchiesta dovrà chiarire l'autenticità di un accordo iniziale tra le parti, con Fanghella, detto alla manutenzione, il figlio Alessandro e Vernich, responsabili della pubblicità, con la stesura di una bozza di contratto davanti a un commercialista, di cui poi non si è fatto più nulla. L'ingegnere leccese 32enne il primo agosto dell'anno scorso fu anche oggetto di un ride intimidatorio, quando due persone, in sela di una moto, spararono alcuni colpi di pistola contro la sua Audi TT nei pressi di Viale Grassi a Lecce. Va sfruttata l'occasione fornita dal governo ai comuni di derogare per quasi 100 milioni al patto di stabilità. Lo afferma Gian Piero Rizzo, presidente di Ance Lecce, il quale ha inviato una lettera ai sindaci dei comuni della provincia di Lecce, invitando gli stessi a cogliere appieno la possibilità di derogare al patto di stabilità interno nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio. Il recente decreto legge del 19 giugno consente infatti alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta entro il 30 giugno di accedere fino a 97 milioni di euro per interventi diffusi sul territorio. Passiamo alla cronaca. Si aprirà a settembre il processo a carico di una docente leccese di 57 anni che dovrà rispondere di abuso di mezzi di correzione. Dai racconti dei genitori dei piccoli alunni emergerebbero scenari inquietanti di violenze fisiche e psicologiche, il servizio di Paola Mazzotta. È una triste vicenda quella che sarebbe accaduta all'Eguile nel corso dell'anno scolastico 2011-2012. Un'insegnante leccese di 57 anni è stata nei giorni scorsi rinviata a giudizio con l'accusa di abuso di mezzi di correzione. La donna avrebbe ripetutamente avvilito i suoi piccoli alunni con pesanti offese fino a spingersi a picchiarli con schiaffi e sculacciate. E purtroppo non finisce qui. Nel fascicolo d'inchiesta aperto dal pubblico ministero Stefania Minigni, i genitori dei poveri bambini raccontano di un clima di vero terrore psicologico con gli alunni lasciati digiuni nel caso in cui non avessero portato a termine i compiti e costretti a non poter andare in bagno nelle ore di lezione. Lezioni che spesso l'insegnante teneva impedendo di aprire tapparelle e finestre nonostante il caldo. La donna, difesa dall'avvocato Angelo Vetrugno, avrà modo di chiarire nel corso del processo che avrà luogo a settembre i contorni di questa inquietante vicenda. Parliamo di strisce blu. Se il grattino scade, la multa è legittima. Il Comune di Lecce insiste sulla sua linea. Il grattino scaduto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa nonostante il parere discordante del Ministero dei Trasporti. Il nocciolo della questione sta nel concetto di sosta regolamentata. Il Codacons non ci sta. È diventata quasi una telenovela la questione delle fatidiche strisce blu a Lecce, vero grattacapo per gli automobilisti. Le multe inflitte dagli ausiliari del traffico a chi lascia la macchina oltre il tempo indicato sul grattino, sono legittime o no? A tal proposito rimbalzano diversi pareri. Non ultima la nuova direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sembrava aver detto l'ultima parola, stabilendo che la sosta sulle strisce blu è regolamentata quando il pagamento è previsto solo in determinate fasce orarie, per alcuni giorni della settimana o per determinate categorie di veicoli. Solo in presenza di questi parametri, stabiliti in un regolamento comunale, la multa da 25 euro inflitta agli automobilisti che parcheggiano l'auto, oltre il tempo previsto sul grattino, si può considerare valida. In tutti gli altri casi la multa è nulla, come nella sosta a pagamento a tempo indeterminato, tipica di quelle aree dove è possibile parcheggiare, previo pagamento di un corrispondente a prescindere dai giorni e dagli orari. In questo caso, si legge nella nota di Palazzo Carafa, il protrarsi della sosta oltre l'importo pagato è configurabile come inadempienza contrattuale ed è pertanto oggetto di sanzione a titolo di penale. Ed invece si è creata ancora più confusione. L'intoppo è sorto intorno al quesito fondamentale, cioè quando la sosta è regolamentata. Ed è per questo che il Comune di Lecce è tornato alla carica, riuscendo a ottenere la nuova nota ministeriale che delinea il concetto e la conseguente applicazione della multa da 25 euro e per chi invece parcheggia senza pagare nulla la sanzione parte da 41 euro. Insomma, il Ministero ha dato ragione al Comune di Lecce e pertanto gli automobilisti devono farsene una ragione. In ogni caso è prevista una certa tolleranza in caso di prolungamento della sosta senza la necessità di integrare il ticket rispetto alla tariffa oraria prestabilita. L'Associazione dei consumatori torna all'attacco. Adesso basta multe per grattino scaduto. Il Codacons di Lecce, infatti, torna a chiedere al Comune di Lecce di riconoscere l'illegittimità dei verbali, dopo le pronunce in questo senso arrivate dal Ministero dei Trasporti, dalla Prefettura, dal Giudice di Pace e dal Lanci. E continuiamo a parlare di parcheggi a Lecce. Sono 200 i posti auto in più in città con l'avvio della differenziata porta a porta nelle tre aree pilota e potrebbero arrivare a 3.500 entro i prossimi quattro mesi. L'avvio della differenziata a Lecce, quindi, non porta solo benefici a medio e lungo termine in quanto i vantaggi sono riscontrabili già da adesso. La rimozione dei vecchi cassonetti, infatti, ha liberato nei primi due mesi lo spazio necessario a garantire ulteriori 200 parcheggi. I benefici di una raccolta di tipo differenziato sono reali e realizzabili, ma solamente nel momento in cui le regole vengono ben seguite da tutti i cittadini, commenta Andrea Guido, assessore alle politiche ambientali del Comune. Differenziare e riciclare conviene, è necessario ribadirlo con forza se davvero vogliamo compiere un salto decisivo e finalmente avviare un cambiamento radicale. Le vetrine di molti negozi di Lecce e provincia espongono cartelli con l'avviso di sconti e promozioni quando manca ancora una settimana all'inizio ufficiale dei saldi estivi previsto per il 3 luglio. Ufficialmente partiranno il prossimo 3 luglio, come da calendario, ma i commercianti giocano d'anticipo sin da ora, con offerte promozionali e ribassi, vista la crisi che frena gli acquisti. Parliamo dei saldi estivi, punto di riferimento dei consumatori e di quanti attendono questo periodo per acquistare a prezzi scontati quei capi che magari non ci si è potuto permettere perché troppo costosi. Così i negozianti hanno già lanciato sms, email e inviti cartacei annunciando offerte convenienti, vendite promozionali e ribassi rivolti ai propri clienti e possessori di Fidelity Card. I commercianti così abbassano i prezzi e attirano già clienti prima del grande assalto della stagione ufficiale dei saldi. I settori più gettonati sia per i presaldi che per i futuri acquisti sono legati principalmente al settore mare, costumi da bagno, abbigliamento, calzature, accessori, borse e cosmetici. Non mancano come sempre le avvertenze da parte delle associazioni dei consumatori che consigliano di seguire tre regole base per evitare di venire truffati. Verificare i prezzi almeno una settimana prima dell'inizio ufficiale dei saldi, diffidare dei prezzi troppo vantaggiosi con percentuali di sconto esagerate e infine diffidare dagli importi scritti col pennarello senza indicazione del prezzo originale. Lutto nel mondo della cultura salentina è morto Franco Corliano, ex ferroviere, scrittore, pittore e musicista. Corliano, detto Murghi, era in sé patrimonio della cultura grica. Aveva 67 anni ed era nato a Calimera. A lui si deve il recupero della lingua, delle tradizioni, della saggezza popolare della sua terra. Nel 1972 pubblicò la canzone Clama, conosciuta anche come Andramu Pai, sul dramma dell'emigrazione. Ma il testo più pregiato è il vocabolario di Grico, un'opera di impareggiabile importanza per la sopravvivenza della lingua grica. Una splendida sorpresa per tutti i salentini e gli amanti della pizzica. Il concertone della Notte della Taranta avrà come superospite il 22 agosto uno dei più amati cantautori italiani, il rocker emiliano Luciano Ligabue. La Taranta diventa maggiorenne e pizzica un ospite eccellente. Quest'anno infatti il super concertone di Melpignano, alla sua diciottesima edizione, si regalerà e ci regalerà la presenza di Luciano Ligabue. Phil Manzanera, maestro concertatore di questa edizione e nonché storico chitarrista dei Rocksy Music, si è dichiarato molto felice che Ligabue abbia accettato l'invito, così come il presidente della fondazione Massimo Manera, che dichiara è in motivo di grande orgoglio ospitare Ligabue sul palco di Melpignano, nel 25esimo anno della sua carriera. Sono sicuro che il nostro straordinario pubblico riceverà emozioni uniche. Sarà come sempre una festa collettiva al ritmo di tamburello. Anche Sergio Blasi, tra i padri fondatori della Notte della Taranta, esprime la sua soddisfazione e dice Ligabue renderà omaggio alla nostra lingua grica, non più in clave lenofona, ma pronto ormai a diventare un linguaggio universale. Grande attesa dunque per la serata del 22, quando Luciano Ligabue reinterpreterà alcuni brani della tradizione salentina. Questo sarà un anno importante per il Liga, uno dei più amati e versatili artisti italiani, che festeggerà l'anniversario del suo primo indimenticabile album. E le sorprese non finiscono qui, perché la fondazione assicura l'arrivo di altri nomi di prestigio, che renderanno indimenticabile anche questa Notte della Taranta, amata da tutta Italia e vanto di noi salentini. Il circolo tennis-maglie, finale play-off per la promozione in Serie B. Ultimo ostacolo per i salentini, che domenica ospitano i forti romagnoli del Casalbone di Sant'Arcangelo. Il campionato nazionale di tennis di Serie C termina domenica mattina, con le finali che decideranno la promozione in Serie B. Tra queste, uno degli incontri più attesi è quello che vede in campo il circolo tennis-maglie, che ospita i romagnoli di Marino Casalboni di Sant'Arcangelo di Romagna. I magliesi hanno conquistato il mese scorso il titolo regionale a Brindisi, contro i rivali storici dell'Angiulli-Bari, dopo un campionato giocato ai massimi livelli, che li ha visti primeggiare imbattuti nel proprio girone e nei play-off. Parallelo con gli stessi successi è stato il percorso dei romagnoli, che dopo aver conquistato il titolo regionale hanno disputato il primo turno dei play-off nazionali, contro il circolo tennis-palermo domenica scorsa vincendo per 4-0. I ragazzi del circolo tennis-maglie, guidati dal tecnico Michele Pasca, sanno bene di aver di fronte una squadra ostica composta da giocatori di alto livello, come Rondinelli e Casanova. Per questo motivo la squadra ha intensificato gli allenamenti per recuperare la forma dopo circa un mese di inattività dall'ultimo incontro di campionato disputato, mentre i romagnoli hanno sostenuto nel frattempo altre partite che sono servite come rodaggio e preparazione per l'incontro decisivo di domenica a Maglie. Per il direttore sportivo del circolo tennis Maglie, Antonio Baglivo, questa finale mette a confronto due squadre con valori tecnici e agonistici che si equivalgono e i giocatori di ottimo livello per entrambe. Sarà una finale molto impegnativa, nella quale la preparazione fisica dei giocatori farà la differenza. Sono comunque fiducioso, dice Baglivo, per i nostri ragazzi che sono fortemente determinati a vincere e conquistare la tanto sospirata promozione in Serie B, per chiudere in bellezza un campionato che ha dato tante soddisfazioni sia alla squadra che ai tifosi, che ogni domenica ci hanno seguito con tanta passione ed entusiasmo. E poi avere, caso unico nel panorama italiano, due squadre, una in Serie A1 e l'altra se promossa in Serie B, sarebbe davvero una grande e bella soddisfazione. Per questa finale la collaudata macchina organizzativa del Circolo Magliese è a pieni giri per ospitare l'evento e il numeroso pubblico che si prevede riempirà le tribune. Per questa finale la collaudata macchina organizzativa del Circolo Magliese è a pieni giri per ospitare l'evento e il numeroso pubblico che si prevede riempirà le tribune. Gli incontri inizieranno appunto domenica alle ore 10 con ingresso gratuito. Riparte il 10 luglio a Merine la Sagra dell'Urano, arrivata alla sua ventiduesima edizione. Una tre giorni ricca di musica, tradizione, cultura e buona tavola, dedicata al grano e ai prodotti della terra. Subito dopo il Tg andrà in onda uno speciale durante il quale potrete scoprire curiosità e qualche anticipazione sull'atteso evento. Ed era l'ultima notizia, io d'appuntamento alla prossima edizione del Tg8 e vi auguro un buon proseguimento di serata con la programmazione di Canale 8. Grazie a tutti!